Buon pomeriggio, ben ritrovati dalla redazione web della città. In questa serata di pioggia andiamo a vedere che cosa vi suggeriamo per il tardo pomeriggio e per la serata, appunto, cominciando dalle ore 18 e da un appuntamento dedicato ai libri al Circolo dei Lettori a Palazzo Graneri in via Boggino. La presentazione del volume I bambini crescono nonostante gli adulti sarà fatta dall'autore Giuseppe Ferrari, un illustre pediata con più di 50 anni di esperienza alle spalle che viene a raccontarci una verità a volte scomoda, cioè che i problemi dei bambini spesso vengono dai genitori. L'altro appuntamento che vi segnaliamo è invece un'ora e mezza più tardi, alle 19 e 30, al Teatro Carignano, un appuntamento quindi teatrale. Verrà messa in scena la Belle Joyeuse di Gianfranco Fiore, la storia di Cristina Trivulzio, principessa di Belle Joyeuse, nel monologo recitato da Anna Bonaiuto. Chiudiamo con il cinema alle 20 e 45, questa volta la Massimo 3. Verrà proiettato nell'ambito della rassegna Amos Gitae, architetture della memoria. Il film Carmel del 2009, proprio di Amos Gitae, verrà proposto ovviamente nella versione originale con sottotitoli in italiano. E' tutto per quest'oggi, grazie per averci seguito, grazie a Paolo Mosso per la messa in onda e a voi una buona serata.